Una fotografia oggi con voi, da questa fotografia, da questa nave, da questa fotografia che ha segnato il nostro tempo, ha segnato il nostro paese. La Costa Concordia è stato un grande caso di cronaca nera, un cimitero nell'acqua, una annosa vicenda giudiziaria, ma anche un grande processo mediatico. Noi la seguimmo in diretta all'epoca, me lo ricordo molto bene. Cosa resta dieci anni dopo di questa vicenda terribile che costò la vita 32 persone? Beh, la persona più indicata per dirci cosa resta è sicuramente Franco Gabrielli, all'epoca capo della protezione civile, che ha vissuto quei giorni e quelle notti in maniera intensissima, che racconta in questo libro l'emozione, il dolore, il coinvolgimento anche psicologico che tutto quello ebbe, e poi a un certo punto racconta anche una cosa molto rara nel nostro paese, le dico la verità, le scuse. A un certo punto nel libro mi ha molto colpito questa cosa, dice io da servitore dello Stato come è già raccaduto a Genova con il G8, senti i dover al paese delle scuse. Perché delle scuse? Intanto buongiorno, grazie di avermi accolto nella sua trasmissione. Lei fa riferimento a un passaggio che precede peraltro una fase importante della vicenda della rimozione, il parbacling, il raddrizzamento della nave, che furono preceduti da tre giorni che io trascorsi nel Vaillant, all'Ongarone, per ricordare i 50 anni da quella tragedia. In quell'occasione ci fu una bellissima iniziativa da parte del Comune, da parte di quel territorio, in omaggio ai soccorritori, al volontariato organizzato di protezione civile. Però in quei giorni che poi erano precedenti all'iniziativa conclusiva, avevo respirato, camminando per la strada, una incompiuta, un qualche cosa che, come dissi, percepivo proprio nell'aria, del fatto che nessuno avesse mai chiesto scusa per le cose non dette prima e per i ritardi nei riconoscimenti dopo. E allora, siccome in quella circostanza rappresentavo lo Stato, peraltro, come ho scritto, uno Stato che è anche comunità, perché il sistema di protezione civile non è solo un insieme di apparati, ma è di fatto la comunità nazionale, le popolazioni, i suoi sindaci, il sistema delle strutture operative del servizio nazionale. Quindi mi sentivo in dovere, ripeto, nel mio piccolo, perché in fondo... Senta, Gabriele, mi dica una cosa, perché lei è una persona sincera. Ma perché in questo Paese le persone a vertice delle istituzioni fanno così fatica a chiedere scuse? È una parola così poco pronunciata. Ma non lo so, perché io credo che ci sia una sorta di... quasi di transfert, no? Perché ognuno di noi pensa di non essere irresponsabile. C'è una... visto che abbiamo da poco tempo lasciato la vicenda Quirinalizia, io ricordo sempre quel discorso del Presidente Napolitano, in occasione della riconferma, in cui più lui era caustico e più era ingeneroso nei confronti dell'uditorio e più l'uditorio applaudiva. Allora tutti si sono domandati, ma perché? Perché molto probabilmente nessuno si sentiva in qualche modo responsabile diretto di quella vicenda o di quelle accuse. E così avviene sempre, ognuno di noi pensa che la cosa riguardi altri. Un'autoindulgenza. Senta, è stata fatta giustizia sulla Costa Concordia, a parte ovviamente il colpevole Capitano Schettino, secondo lei? Io anche nella circostanza ho detto che c'era una sentenza, la sentenza peraltro che aveva raggiunto l'autorità di cosa giudicata, quindi i famosi tre gradi del procedimento e quella faceva Stato e su quella era inutile tornare sopra. Quello che ho provato a raccontare anche nel libro è, come molto spesso accade, le cosiddette responsabilità sistemiche, che non possono necessariamente essere riferite alla responsabilità penale, che per sua natura è una responsabilità personale. E anzi, molto spesso purtroppo, laddove si cerca la responsabilità personale, si perde di vista la responsabilità più complessiva e si producono anche delle storture e delle aberrazioni. Senta, lei c'è molto orgoglio in alcune parti di questo libro, perché poi l'operazione di raddrizzamento fu un'operazione straordinaria, insomma, questo libro è molto paradigmatico, lei parla della Costa Concordia, ma parla dell'Italia, secondo me, perciò è interessante leggerlo. Però poi c'è un punto in cui lei dice una cosa molto amara sul nostro paese, racconta che nel pieno di questa gara di altruismo, di tutti che si facevano in quattro, è succeduta una cosa veramente brutta, meschina, viene rubata la campana della Costa Concordia. E perché, secondo lei, questo è un paese di santi, di navigatori, di poeti, ma anche di sciacalli, un po' succede. Sì, perché credo che poi alla fin fine la miseria, come miseria e nobiltà, sono accoppiate e a volte la straordinaria grandezza si perde in meschinità e in miserie che poi sono anche incomprensibili, perché poi, come ho scritto nel libro, in fondo quello era un corpo di reato, quindi non potrà mai essere esposta, non potrà mai essere chi lo ha fatto menare vanto di una cosa di questo genere. Quindi sono quelle vicende che però io ascrivo un po' a questo modo di essere di ognuno di noi, in ognuno di noi coesistono positività e negatività. Come ci sta Franco Gabrielli? Io lo conosco da molti anni, è un uomo d'azione vero, cioè la protezione civile stava sempre a fare cose, sempre con la camicia, non ne parliamo alla polizia, insomma, giorno, notte. Come si sta in questo clima vattato di Palazzo Chigi, così lì a fare il gran comì? Intanto è un'esperienza che per molti aspetti riannoda molte cose che ho fatto, ho fatto anche direttore di un'agenzia di intelligence e molte cose appartengono al mio vissuto professionale. In più c'è questa straordinaria occasione di lavorare con un personaggio importante. È un fuoriclasse Draghi? Io non lo conoscevo ma ne ho apprezzato fino in fondo il fatto che... L'ho scelto senza avere una conoscenza diretta di Mario Draghi. Non conoscevo e tutto sommato è stata una sorpresa per me quel 15 di febbraio quando mi ha chiamato. Complicità, torniamo...